Gashadokuro, scheletro affamato, è uno dei più spaventosi yokai della mitologia giapponese. Ha la forma di un enorme scheletro che supera addirittura i 10 metri di altezza. Le sue ossa sono formate da numerose persone morte di una grave forma di malnutrizione ed è estremamente pericoloso se incrociato. Gashadokuro si può trovare dopo la mezzanotte in luoghi molto bui, solitamente in boschi, foreste, campagne e sentieri. È praticamente invisibile e indistruttibile e la sua rabbia si accanisce su qualsiasi persona egli incontri. Questo gigantesco scheletro decapita le vittime e beve il loro sangue emettendo degli spaventosi suoni che solo le proprie vittime possono udire. Da notare infine che questa creatura è così affascinante che alcuni l'hanno voluta inserire all'interno di alcuni videogiochi. Beh, che dire, meno male che si tratta solo di una creatura mitologica inventata.